Eccoci ragazzi con questa nostra ultima registrazione finiremo il regno dei Longobardi e poi ci saluteremo Se andate dove eravamo rimasti la volta scorsa, pagina 250 possiamo riprendere da questo paragrafo qua Abbiamo visto più o meno come era stata la discesa dei Longobardi in Italia e che tipo di società era una società molto diversa da quella latina su cui vennero a innestarsi e spero che abbiate visto il video che vi ho mandato di Alessandro Barbero se non l'avete fatto mi dispiace per voi perché è assai divertente sulle parole che sono entrate nell'italiano attraverso il Longobardo tutte parole molto concrete, molto dure che fanno capire appunto che tipo di civiltà fosse quella dei Longobardi non certo come disse, come ha detto Alessandro Barbero che è un grande studioso in un suo intervento recente a proposito non era certo una società di filosofi quella dei Longobardi Dunque, andiamo a vedere come erano organizzati si stabilirono soprattutto nelle campagne ed erano suddivisi in fare con questo termine indicavano dei gruppi di guerrieri che erano legati fra loro da un antenato in comune e avevano un capo e questo capo era chiamato duca dal latino dux hanno preso questo termine in prestito per indicare appunto i capi, i duchi che si stabilevano nelle città erano dei capi militari e nonostante avessero un re questi Longobardi diciamo che ciascuno obbediva al proprio duca quindi l'autonomia di questi duchi era molto forte e il re veniva messo spesso in discussione da questo termine, Fara, per esempio è venuto il nome di tanti paesi che ancora oggi lo conservano quello più vicino a noi si chiama Fara Sabina quando incontrerete nella vostra vita tutti quanti i paesi che hanno come nome Fara sappiate che Fara indicava appunto un gruppo di guerrieri Longobardi che obbedivano a un duca e quindi Fara era questo gruppo di guerrieri da cui derivarono i nomi di molti dei nostri paesi come Fara in Sabina che è quello appunto più vicino a noi questa è un'illustrazione della storia dei Longobardi che venne scritta da Paolo Diacono che era uno scrittore del Medioevo che narrò la discesa dei Longobardi vediamo alcuni dei re fondamentali il primo re nel 572 morì assassinato dalla moglie si chiamava Rosmunda e questo re si chiamava Alboino pensate era famoso perché si diceva che fosse talmente feroce che beveva dal cranio dei nemici uccisi come se fossero delle tazze, dei bicchieri Rosmunda lo uccise perché si fece corrompere dai bizantini il successore del 574 si chiamava Clefi ma venne messo in discussione dai duchi che ucciso Clefi da una congiura per una decina di anni dominarono l'Italia in modo completamente anarchico cioè ognuno dominava una porzione di territorio senza obbedire a nessun re tanto che non si elesse nessun re e questi anni tra il 574 e il 584 furono probabilmente gli anni di maggiore sofferenza della popolazione di origine latina in cui l'Italia venne dominata e spezzettata fra il dominio di tutti questi capi germanici ognuno dei quali aveva appunto villaggi di guerrieri a lui fedeli le varie fare e il periodo di maggiore decadenza probabilmente in cui la frammentazione divenne più grande iniziò anche appunto la frammentazione linguistica perché ogni luogo era ormai isolato dagli altri questa frammentazione si interruppe con il re Autari o Autari dal 584 al 590 che cercò per la prima volta di costruire uno stato e di portare sotto un'unica autorità tutti quanti questi duchi germanici voltate pagina quindi ancora non si può parlare di un vero e proprio stato comincerà ad emergere uno stato longobardo con i re Agilulfo e Rotari il primo regnò dal 591 al 615 il secondo dal 636 al 652 le vicende sono molto più complicate ma fondamentalmente sono i due re che cercarono di dare degli elementi per portare sotto uno stato unico questi guerrieri germanici per dare un'amministrazione dello stato quindi cercarono di imparare un po' da quello che era stato il popolo romano e si indettero una capitale a Pavia che abbiamo visto dov'è? lontano da Milano nel 626 e crearono una prima amministrazione statale attraverso la figura degli Gastaldi che erano dei funzionari nominati direttamente dal re che esercitavano la giustizia e amministravano per conto del re nei territori nominati dai singoli duchi per cercare di portare un po' un'unità a questo regno longobardo di recente formazione ma dei ducati due restarono autonomi perché erano molto potenti il ducato di Spoleto che sta in Umbria e il ducato di Benevento nell'attuale campagna Benevento è la città della campagna però come abbiamo visto comprendeva gran parte dell'Italia meridionale e nonostante tutto la spartizione fra Bizantini e Longobardi l'abbiamo vista riguardate se non ve la ricordate questi due ducati mantendero una grossa autonomia un grosso passo in avanti la definizione di uno stato longobardo venne portato con l'editto di Rotary del 643 era praticamente un editto in cui il re Rotary cercò di dare delle leggi scritte simile a quelle dei Romani perché i Longobardi non avevano un diritto delle leggi scritte ma avevano un cosiddetto diritto consuetudinario cioè delle abitudini che venivano tramandate a voce e che rappresentavano un po' il loro modo di gestire la giustizia per esempio c'era l'istituto della faida la cosiddetta faida era un modo per farsi giustizia per cui se qualcuno subiva un torto un furto, un unicidio la famiglia offesa poteva vendicarsi su quella a cui apparteneva quello che aveva compiuto il crimine anche con la violenza un omicidio si poteva vendicare con un altro omicidio e così praticamente non si finiva mai e questi Longobardi vivevano costantemente in guerra fra uccisioni e vendette un istituto molto crudele che porta tantissima sofferenza e dolore quindi non può essere una giustizia di tipo moderno che i romani non conoscevano perché essendo civili avevano già superato da molto tempo e invece questi germani si è rimasta per esempio nella cultura della mafia in sud Italia pensate quanto sono antiche queste cose che radici culturali hanno e in alcuni paesi la cultura della faida è ancora rimasta il re Rotary cercò di cambiare di portare delle leggi eque ed uniformi e scrisse appunto questo editto in cui la faida e altre usanze barbare venivano sostituite da una giustizia pubblica per esempio si sostituiva la vendetta al cosiddetto Guidrigildo che era praticamente un modo di risarcire i torti subiti attraverso un pagamento in denaro quindi una multa invece che attraverso la violenza per poter garantire la pace questa cosa viene scritta dal re Rotary per il suo popolo i Longobardi non per i romani come vedremo per lungo tempo romani e Longobardi vivranno a fianco i primi si comporteranno come un esercito di stranieri che li occupavano i romani cercavano di sopravvivere praticamente e non avevano più un diritto loro o meglio i Longobardi gli avevano lasciato qualche cosa ma fondamentalmente dovevano erano soggetti all'arbitrio di questi Longobardi e tutt'al più le uniche autorità latine che ancora potevano offrire una qualche garanzia a questi poveri discendenti dei romani erano quelle della Chiesa ed è qui infatti come vedremo che la Chiesa comincia ad avere sempre più importanza nelle città soprattutto i pescovi nella campagna i parroci a Roma il Papa anche se Roma era compresa nel dominio bizantino ma come vedremo poi bisognerà fare dei distinguo su questa cosa è la Chiesa che comincia a sostituirsi al potere politico mancante e a dover trattare con gli occupanti germanici e quindi la Chiesa comincia ad avere un ruolo politico perché non c'era più un'autorità politica per i latini fino a che i Longobardi non cercheranno di creare uno stato unico per entrambi i popoli però nell'editto di Rotary queste leggi furono scritte soprattutto per i Longobardi non tanto per gli scendenti dei romani qui avete alcuni esempi dell'arte Longobarda che come vedete è molto diversa da quella classica più barbara sembra meno evoluta se vogliamo considerarla così anche se questo termine non è diciamo un termine esatto però nel corso del tempo molti studiosi la considerarono comunque come l'inizio del Medioevo perché si perse tutta la conoscenza anche artistica dei secoli precedenti dei romani quindi questo ditto di Rotary cercò di creare una prima forma di stato attraverso delle leggi comuni a tutto il territorio e come si avvicinarono questi due popoli perché erano stato unico innanzitutto si cercò di dare un'unica religione e fu soprattutto Teodolinda una regina che sposò prima di tutto il re Autary e dopo Agilulfo che era il duca di Torino lei era cattolica ricordate che invece i Longobardi ma soprattutto i Longobardi quelli di rango elevato perché gli altri erano tutti pagani si erano convertiti al cristianesimo ariano che era diverso da quello cattolico e invece Teodolinda cercò di convertire il suo popolo al cattolicesimo e collaborò molto soprattutto con un grandissimo papa uno dei primi grandi papi della storia che si chiamava Gregorio Magno che diciamo fu sul soglio pontificio dal 590 al 604 dopo Cristo e Teodolinda con la collaborazione di Gregorio Magno che appunto era a Roma cercò in qualche modo di trovare una mediazione fra i Longobardi i bizantini e i popoli locali per esempio erano permessi i matrimoni misti e questa cosa permise una prima fusione fra i due popoli poi Teodolinda propose di adottare il latino volgare che parlava nelle popolazioni italiche nell'amministrazione dello Stato e poi nel 603 convinse il re Agilulfo a convertirsi e in questo modo diciamo rese possibile per tutti la conversione al cattolicesimo che prima era vietata e questa fu una prima spinta di aggregazione come erano messi appunto a livello territoriale il papa Gregorio Magno stava a Roma dove in teoria c'era l'amministrazione bizantina ma questa amministrazione bizantina era talmente debole che il papa cominciava a diventare anche un riferimento politico per l'amministrazione del territorio e i vescovi delle varie città anche quelle che erano invece sotto l'amministrazione dei Duchi Longobardi facevano comunque riferimento al papa che era visto un po' come un capo e quindi il papa attraverso la religione cattolica cercava un compromesso con questi Longobardi e cercava soprattutto anche di affrancarsi dall'influenza dei bizantini sotto la quale formalmente Roma ancora era e qui vi spiega appunto tutti quanti questi concetti e come vedremo però il papa soprattutto Gregorio Magno che quindi lavorò insieme a Teodolinda per far convertire i Longobardi al cattolicesimo lavorò anche per stringere una grande alleanza con i franchi che vedrete il prossimo anno la popolazione germanica che si era stabilita nell'attuale Francia che era cattolica fin dall'origine e che lavorerà per un'alleanza con il papa tra l'ottavo e il nono secolo molto stretta e sarà la popolazione che scaccerà lungobardi dall'Italia ma molto più tardi qui vi spiega appunto l'opera di Gregorio Magno di come Gregorio Magno cominciò nonostante formalmente fosse ancora sotto i bizantini a costruire una prima amministrazione di uno stato che sarà poi quello lo stato della chiesa perché molti cittadini discendenti dei romani ricchi avevano fatto delle grandi donazioni alla chiesa e queste prime donazioni davano delle rendite soprattutto campi che potevano produrre anche durante le crisi le carestie eccetera eccetera con cui la chiesa poteva garantire di sfamare la popolazione durante le grandi crisi economiche e quindi la popolazione cominciava a vedere la chiesa un punto di riferimento molto molto forte e queste prime donazioni vedremo sono tutte a Roma nei dintorni il nucleo di quello che è chiamato il patrimonio di San Pietro cioè il primo nucleo di uno stato che sarà lo stato della chiesa in cui il papa si comporterà come un vero e proprio re in latino patrimonium cioè patrimonio ricchezza santi petri genitivo singolare significa di San Pietro come vedremo a breve uno dei nostri paesi Sutri considera il primo nucleo in cui l'autorità territoriale del papa si estenderà a costruire lo stato della chiesa in più questo Gregorio fu molto importante perché si occupò di portare il cattolicesimo anche all'estero nel 596 per esempio inviò dei monaci i cosiddetti benedettini che sono stati tra i primi monaci della storia a convertire in Britannia gli angli e i sassoni che sono i discendenti degli attuali cioè sono gli antenati degli attuali inglesi due popoli germanici che avevano occupato la Britannia scacciando i romani e Gregorio Magno con i benedettini evangelizzò la Britannia e l'isola vicino alla Britannia soprattutto l'Irlanda che sviluppò dei monasteri tra i più importanti di quelli tra i più importanti di quelli cattolici nel medioevo il monachesimo irlandese cioè i monasteri cattolici irlandesi furono tra i più importanti del medioevo e soprattutto gli irlandesi ancora oggi sono credenti credono al Papa e sono cattolici questa forte tradizione deriva proprio dalla prima opera di conversione di Gregorio Magno che coinvolse anche l'Inghilterra ma poi come vedremo l'Inghilterra prenderà un'altra storia a livello religioso e si allontanerà dal cattolicesimo sarà diventando cristiani ma di un'altra confessione protestante ma molto più tardi mentre l'Irlanda che ha le sue radici in questo monachesimo fortissimo di matrice cattolica voluto in questa epoca da Gregorio Magno conserverà fino ai nostri giorni la sua impronta cattolica detto questo faccio una breve pausa perché il capitolo qua è finito ma proseguiremo ancora per un pezzettino dovrebbe essere finito almeno fatemi vedere sì guardate questa mappa che riassume comunque tutti quanti questi concetti dopo vista questa mappa finiremo brevemente un altro capitolo cioè altri paragrafi e poi abbiamo finito tutto quanto a questo punto andiamo a vedere come termina il regno di Longobardi e parliamo anche di una città vicino di un paese vicino al nostro Sutri che ha una storia molto importante legata ai Longobardi tanto che il vostro libro di storia vi ci mette anche una foto e siamo a 352 ecco qua i Longobardi contro i Franchi i Franchi non li abbiamo studiati lo farete il prossimo anno però come vedrete saranno proprio questi Franchi che verranno chiamati dal Papa che dopo essere stato in qualche modo in collaborazione con i Longobardi ci entrerà in conflitto e chiamerà i Franchi dalla Francia a scacciare i Longobardi dall'Italia ora questa conversione al Cattolicesimo comunque portata avanti dal re Agilulfo e la regina Teodolinda andò avanti e si completò poi con il famoso re Liut Prando che regnò dal 712 al 744 si molti di voi mi diranno a Sutri c'è un ristorante che si chiama Liut Prando che fa la pizza buona eccetera eccetera è vero si chiama così proprio perché prende il nome di questo personaggio re Longobardo famosissimo che ebbe molto a che fare con Sutri come vedremo Liut Prando aveva combattuto molto i residui di culti pagani che erano rimasti nelle campagne che cosa sono i culti pagani? si chiamano così si chiamano così dal nome dei pagi che in latino sono i villaggi come abbiamo visto nelle città i Longobardi erano cristiani ariani gradualmente si convertono al credo dei discendenti dei romani e del papa che è appunto quello cattolico attraverso Teodolinda e Reagilulfo ma nelle campagne nei villaggi nei cosiddetti pagi ancora si credeva alle vecchie divinità oppure alle vecchie divinità dei romani oppure alle vecchie divinità dei germani quelle proprio tipo Torro Odino alla vecchissima mitologia insomma ancora c'erano delle credenze religiose molto molto antiche ecco queste credenze religiose venivano chiamate pagane proprio dai pagi di campagna e Liut Prando cercò di far convertire anche i villaggi di campagna alla nuova fede cattolica e e quindi Liut Prando emano diversi provvedimenti severi contro i vecchi riti pagani sia di tradizione romana che di tradizione germanica e fece altre cose per esempio permisa alle donne di poter ereditare il patrimonio di famiglia questo non tanto per una cosa di una questione di diritti e dignità della donna ma perché in questo modo le donne che entravano nei conventi potevano cedere il proprio patrimonio al convento e così le proprietà della chiesa diventavano sempre più importanti proprio per farvi capire come si costruisce l'importanza della chiesa nel medioevo e come si costruisce lo stato nella chiesa questa cosa importantissima che convolse i sutri nel 728 Liut Prando che era cattolico appunto fece una donazione a Papa Gregorio II donò un piccolo castello con il paese sotto a nord di Roma e questo paese è appunto Sutri e questo atto è conosciuto come la donazione di Sutri e costituisce effettivamente il primo nucleo dello stato della chiesa in cui il Papa formalmente comincia a diventare come un re quindi non ha più soltanto il potere religioso ma anche il potere territoriale che viene definito potere temporale mi raccomando questa cosa sottolineata la voglio vedere nei vostri appunti non ve li valuto bene se non la trovo scritta perché potere temporale se mettete lo proprio in rosso a carattere cubitali insieme al potere spirituale costituirà diciamo la forza dei papi nel medioevo che costruiranno il loro stato nell'Italia centrale lo stato della chiesa a partire proprio da questa donazione di Sutri e questa donazione Sutri perché Sutri era dei lungobardi che lo donarono al Papa perché questo territorio in realtà doveva essere dei bizantini ma i bizantini erano sempre più deboli i lungobardi avevano preso questo territorio strappandola ai bizantini eccolo qua stava proprio al confine vedete e l'avevano e Liut Prando come diciamo come dono al Papa l'aveva donato appunto a Papa Gregorio e quindi con questa donazione comincia il primo nucleo dello stato della chiesa questa cartina vi fa vedere le cose hanno stato un po' più avanzato ma lo vedremo a breve qui siamo nel 728 e ormai i lungobardi e romani e discendenti dei romani sono fusi tutti uniti da una sola religione che è il cattolicismo e da buoni rapporti con il papato e i matrimoni misti hanno portato ormai una fusione tra la popolazione si può parlare ormai di popolazione romana-italica fusa con quella lungobarda e ormai lo stato lungobarda è una realtà che per quanto diciamo non è voluta come quella dell'imperato romano comincia ad amministrare in maniera più civile e moderna lo stato e anche l'esercito ormai non distingue più fra chi è romano e chi è lungobardo se non che questa alleanza con il Papa si incrinò perché Liut Prando cercò di strappare innanzitutto l'indipendenza ai Ducati di Spoleto e di Benevento poi cercò di strappare i controlli diciamo il controllo ai territori bizantini che erano maggiormente custoditi se in Italia centrale ormai i bizantini stavano piano piano evaporando sotto il controllo del Papa che si era alleato con i lungobardi queste zone qua restavano in mano ai bizantini Ravenna e la Pentafolo Rimini Pesaro Fanosi Nigalli Ancona Liut Prando cercò di impadronirsi di questi territori e di scacciare i bizantini e questa cosa spaventò il Papa perché il Papa aveva paura che si volesse prendere anche tutta Roma e il Lazio e come vedremo questo attacco di Liut Prando nel 744 fu effimero effimero significa che durò poco perché non riuscì a mantenere il controllo di questi territori dovette cederli e soprattutto il Papa si spaventò da questa politica aggressiva di Liut Prando e poi come vedremo dei sovrani successivi che continuarono la politica di Liut Prando e il Papa che in frattempo aveva coltivato di buoni rapporti con i sovrani franchi in Francia che erano tutti convertiti al Cattolicesimo già da tantissimo tempo e i Vescovi esercitavano per il Papa un potere molto forte in Francia per controllare soprattutto la popolazione perché ricordate che una volta dissolto l'impero romano furono le autorità religiose a mantenere un minimo di civiltà nelle città dell'impero dopo l'occupazione dei barbari ecco questa alleanza finita di leggere questo paragrafo qua determinerà poi la chiamata da parte del Papa sotto la pressione e la minaccia del re non gobardo a Stolfo che dominò il 749 al 756 il successore di Liut Prando il Papa chiamò il re dei franchi Pipino il breve che dalla Francia venne giù e scacciò i longobardi dal 756 ci saranno due campagne militari che scacceranno poi i longobardi dopo che a Stolfo cominciava a minacciare Roma e fu il Papa stavolta si chiamava Stefano II questo Papa a chiedere aiuto a Pipino nel breve quindi io direi che potete arrivare fino all'intervento franco in Italia e alla minaccia di Astolfo nel 752 per capire come finisce questo impero questo regno qui c'è un riassunto vedete dalla donazione di Sutri gli attacchi di Liut Prando ai ducati con gobardi senza riuscire a controllarli e poi negli anni 50 nel 52 Astolfo minaccia Roma Stefano II si rivolge a Pipino breve dei franchi e poi tra il 754 e il 56 Pipino interviene in Italia per scacciare i longobardi e le cose andranno avanti ancora per per diversi per diversi anni e dunque diciamo in questi due anni 754 e 756 Pipino il breve intervenne in Italia e strappò i territori bizantini ormai i bizantini stanno perdendo il controllo di tutta l'Italia a ai longobardi liberò la città di Ravenna e diciamo l'esarcato la pentafoli in 756 e piuttosto che ridare appunto ai bizantini queste terre ridonò al papa quindi Pipino il breve fece un'altra donazione dei territori soprattutto dell'Emilia Romagna e dell'Italia centrale al papa e in questo modo lo stato della chiesa accrebbe notevolmente grazie a le donazioni dei franchi accrebbe notevolmente i suoi possedimenti ecco qua cominciato a capire praticamente tutte quante queste terre vedete le donazioni di Pipino che erano state dei bizantini vennero donate alla chiesa e la cosa andò avanti perché il regno Longobardo non cadde ma il successore di Agilulfo che si chiamava successore scusate del re Astolfo si chiamava Desiderio regnò al 756 al 774 e cercò di ritrovare l'amicizia del papa e consegnò parte delle miglie e delle marche e cercò anche un'alleanza dei franchi consegnò questi territori al papa questo re desiderio ma poi cercò anche di combinare dei matrimoni con due dei figli di Pipino Carlo e Carlo Manno per come dire capendo che ormai i franchi erano alleati del papa ed erano fortissimi con questa alleanza forse i don gobardi potrebbero mantenere un po' il proprio regno ma nel 772 Desiderio cercò di invadere di nuovo i domini del papa e a questo punto il nuovo papa Adriano primo chiama in aiuto il nuovo re dei franchi Carlo che poi apprenderà l'appellativo di Magno e sarà proprio Carlo Magno che è scese in Italia e a Pavia siamo negli anni 70 dell'ottavo secolo nel 774 dove era serragliato il re Desiderio Carlo Magno conquistò la capitale di Longobardi spezzò anche la resistenza del figlio di Desiderio che si chiamava Adelchi e c'è un'opera bellissima di Alessandro Manzoni che si chiama proprio Adelchi che parla di questa conquista di Carlo Magno dalla città di Pavia e la sconfitta del re Desiderio e in questa modo Carlo Magno si fece riconobbere re dei Longobardi Magno significa il grande come Alessandro e praticamente dopo due secoli il regno Longobardo cade e il nuovo re è re dei franchi cioè della Francia Carlo Magno che in questo modo si impossessa anche dell'Italia Longobarda e il regno di Carlo Magno lo studierete bene nel prossimo anno e come vedrete poi i due educati quello di Spolete di Benevento sopravvissero a questa conquista ma quello di Spoleto diventò comunque sotto il controllo dei franchi quello di Benevento invece mantenne una sua autonomia che arriverà anche fino a dopo l'anno 1000 quando fu conquistato da un nuovo popolo che veniva dal nord e conquistò l'Italia meridionale che si chiamava i Normanni allora detto questo con l'introduzione di Carlo Magno alla caduta del Regno Longobardo in Italia noi abbiamo terminato queste nostre avventure storiche finiamo qua mandatemi gli appunti ora vi do la scadenza e per quest'anno abbiamo finito e poi ci sentiremo per le ultime valutazioni per i compiti delle vacanze spero che questi due anni insieme siano stati per voi comunque proficui dal punto di vista degli apprendimenti e della comprensione insomma della storia io ho cercato di fare del mio meglio qualche cosa abbiamo dovuto tagliare per questa situazione di emergenza ma casomai vediamo se si può recuperare con i compiti durante l'estate io ragazzi vi saluto